Musica Bella ragazzi che benvenuti siamo qui tornati con Novit siamo qui su Prey Non mi ricordo più che episodio sia però adesso vi lascerò degli spezzoni di quello che è successo mentre non stavo recando con la webcam E noi intanto andiamo qui nel laboratorio di Blackbox Ok che dobbiamo cercare informazioni sul progetto Grazie 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 a tutti. 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 Allora, terminale, strumenti, carica. Che l'altro episodio sono andati a vedere i cosi del corallo. Sembrava troppo strano. Grazie a tutti. Siamo tutti contro di noi. Figa. Ah, vediamo se c'è delle antiragliazioni che ce l'ho qui, buonissimo, ok. Ora... Obiettivi multiple. Fuck, 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 come faccio a disattivarlo nell'archivio. Un'acqua... 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 Infatti non è un'acqua... 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 Restare qui a morire di fame forse Dietro al pannello c'è un comando di bypass per forzare il lancio Ma non attivarlo finché il portello non è stato rimosso Finiremmo in pezzi Troppe robe raga Allora Operatore Blackbox MCM9 pronto a luce Allontanarsi, prego Notifica Visivo Inabilitare le autorità Nimico individuato Nimico individuato Nimico individuato Andiamo qui No, sono solo male Allora Come faccio a salire sullo shuttle, il cazzo Abbiamo un ringaggio Abbiamo rilascio operatore Morgan Ho riflettuto su ciò che hai fatto Su ciò che stai facendo Dobbiamo tutti agili secondo la nostra natura Non importa Pensano psicologi e sacerdoti E' la tua natura Prima di conoscere Si è un quadro Interprende Scalto Impressione Cazzo No raga No raga Che bordello c'è Eh mio dio Sto passando Allora Ispezione L'integrità della sua tuta è compromessa Grazie Lasci che la ripari Riparazione completata Raga Raga se non è questo il computer Non lo so Fuck Allora Allora Le di bracciale ok Invece io Allora Questo l'abbiamo trovato Invece 0913 Perché? Ah no ok Disattivazione Ok Disattivata Disattivata Sì sì vai pure da lui Cazzo me ne frega Allora Neuromod Nulla Vediamo un po' Cosa si può fare Se tipo andassi su Sto passando Sto passando Ispezione L'integrità della sua tuta è compromessa Lasci che la ripari Esame completato Minchia se non muore sto coso Visto che siamo già qua Visto che siamo già qua Tra le loro direttive Genuary Non ora Sì certo ma Dal Il suo arrivo potrebbe aiutarci Sempre che non l'abbia già ucciso Vede Dal è un ricettacolo di Varie neuromod Di combattimento Strategie Interrogatori Come immagini Sapere Sua madre E il consiglio Sono molto scrupolosi Dottor Igwe Esponga le sue conclusioni a Morgan Fatti Igwe Venga al punto Oh beh Sì Vede Le neuromod di Dal Sono obsolete Beta di classe C E vulnerabili Pertanto ha Alcune idee ormai superate Se le rimuovessimo Potrebbe dimenticarsi Della missione E avremmo comunque Accesso allo shuttle Per tornare a casa Sempre che le sue conoscenze Il volo resti limitate È un rischio Ma vale la pena Correrlo Andrà trattenuto Naturalmente Temo che questa parte È coppia Sulla stazione Non c'è nessun altro Ancora in vita In grado di pilotare Lo shuffle Vale la pena Di provare Ci sono già stati Troppi morti Eh già Sei rimasta Intrappolata Nella simulazione Per tre settimane Trovato il modo Di lasciare la stazione Normalmente i testi simili Durano solo qualche giorno È un bel problema C'è il tipo Che dobbiamo andare a cercare Quindi Cerchiamo sto tipo E poi vi abbandono Lascia che Fuck Cazzo non me ne ero accorto Sto coso Ok Devo andare fuori Allora Chiaro Devo andare fuori Ah ok Sì ok Mi fa uscire Di qua Ok Quindi ora raga Adesso salvo E nulla Ci becchiamo Nel prossimo episodio Quindi Se il video vi è piaciuto Mi evita a lasciare un like Un commento Iscrivervi al canale E noi ci becchiamo nel prossimo video Bella